Oggi vi presento un caso di rinocetoplastica in pelle super spessa. Oggi abbiamo un caso di rinocetoplastica in una paziente che presenta una pelle super super spessa. Ovviamente come la tipica richiesta è mi faccia il naso più piccolo, meno sporgente rispetto al volto e mi faccia la punta piccola. In una pelle spessa la risposta dovrebbe essere signora non si può fare nulla, arrivederci. Ovviamente qua si tratta di trovare un compromesso. La pelle spessa non si può ridurre nel suo spessore, scusate il gioco di parole ma è proprio così. Quindi si tratta di arrivare a un compromesso nella riduzione dello scheletro osteocartilagineo del naso e le capacità di contrazione della pelle. Quindi un naso piccolo con punta definita, molto triangolare, molto appuntita che vuole la paziente, non ci si arriverà mai. Però certamente lo si può ridurre. Qui oltre al gibbo e alla notevole prominenza della punta, se vedete bene nel profilo abbiamo una certa sporgenza della columella. Si vede un po' troppo nel profilo rispetto alla nasale. Quello che in termini anglosassone viene definito un eccessivo columella o show, cioè la columella si vede un po' troppo e fa sembrare la narice troppo grande. Ora qui cosa è stato fatto? È stata fatta la tipica riduzione di sporgenza del naso, quindi gibbo, corretto, con ottenimento di un profilo rettilineo e la deproiezione della punta. Quindi cartilagini, l'arco delle due cartilagini alari è stato ridotto nella sua prominenza, nella sua sporgenza. Questa è la parte 1 dell'intervento, cioè la riduzione di sporgenza. Se l'intervento terminasse così avremmo probabilmente un buon risultato estetico, ma una debolezza strutturale del naso nel lungo termine che creerebbe problemi alle due valvole nasali, le interne e le esterne per ciascuna parte, per un collasso ispiratorio da carenza di struttura cartilagina. E una discesa della punta verso il basso, l'aptosi della punta, perché? Perché anche qui non abbiamo sostegno. Considerate che la pelle spessa, quando si contrae, ha una certa forza e vince la resistenza delle cartilagini, della volta 2 e volta 3, che la supportano. Quindi cosa viene fatto? Un aumento di struttura di questa cartilagina con le tecniche di rinoplastica strutturale che ho ben spiegato in un file, una pagina dedicata al mio sito internet. Cosa è stato fatto? Quindi due spreader graft per dare sostegno al dorso della seconda volta cartilaginia, un innesto di columella per dare sostegno alla punta e due alla ring graft per dare, due innesti per dare sostegno alla nasale, in modo tale che, prima di tutto, la respirazione sia stabile e non crei un collasso della porzione cartilagina del naso e, seconda cosa, per avere una struttura che funzioni e sia stabile nel lungo termine. C'è anche un elemento di struttura importante nel breve periodo, cioè la pelle spessa, quando guarisce nell'immediato posto operatorio, ha una forza di contrazione notevole che deformerebbe la piramide nasale e la punta. Lo scopo degli innesti è contrastare questa forza e rendere stabile l'effetto estetico, la forma estetica e le dimensioni che ci sono date al termine dell'intervento. L'intervento è stato eseguito con approccio open, quindi rinoplastica, rinossettoplastica aperta, è stato corretto anche una deformità del setto nasale, senza tamponi, anestesia generale, intervento di circa due ore di tempo in ricovero dei surgery, quindi pomeriggio a casa.